Qualche mese fa c'è stato un primo contatto con gli ambiti territoriali per sensibilizzare su questa piaga sociale che è il gioco d'azzardo, slot machine, tutto quello che gravita intorno a questo mondo, però ancora è un po' lettera morta. Voi siete un pochettino sull'allarme per questo aspetto. Sì, noi avevamo chiesto agli ambiti territoriali di convocare tutti i sindaci proprio per creare dei regolamenti uniformi tra tutti i comuni, sulla gestione dell'orario, sulle distanze, sulle misure anche possibili di contrasto al gioco d'azzardo. Abbiamo fatto due incontri presenti, fosse un bruno, un ambito di fanno, presenti o i sindaci o gli assessori preposti e avevamo concordato di arrivare ad una definizione almeno delle linee guida per regolamenti comunali di contrasto al gioco d'azzardo. Sono passati quasi due mesi, arriva la pausa di agosto e auspichiamo che queste linee guide d'ambito per regolamenti omogenei dei comuni vengono adottate al più presto. Perché la piaga è una piaga importante, sono numeri impressionanti quelli non solo di Fano ma di tutto il territorio. Sono numeri impressionanti, anche i recenti fatti di cronaca del territorio marchigiano lo svelano. È una piaga nascosta che intacca tutti i ceti sociali dei meno abbienti ai più borghesi, ai più ricchi. In un incontro dove era presente anche l'Asero ci dice che i ludopatici sono anche persone che hanno disponibilità finanziaria. Quindi è una malattia trasversale che deve essere contrastata perché famiglie si rovinano, persone si rovinano e genera solo debito e declino sociale delle famiglie e della società.